Allora, io non soltanto sono andato a tutti gli interrogatori, non soltanto il giorno in cui mi è stato fissato l'interrogatorio e ci avevo il Senato, non ho chiesto il legittimo impedimento, mi sono presentato davanti ai magistrati, ho risposto nel merito, non soltanto ho fatto ricorso e questo ricorso, non io, nel caso di specie sono altre le persone che hanno fatto ricorso in Cassazione e che hanno vinto cinque volte, io credo nella giustizia. Posso permettermi di dire ad alta voce che la battaglia per la giustizia giusta, che non riguarda Open, su Open ha già parlato la Cassazione, il libro non parla di Open, il libro parla di tutto il resto e parla di come troppe cose non hanno funzionato, quindi io non ho nessun tipo di messaggio negativo verso i magistrati in quanto tale, ma le faccio una domanda a Formigli, io sono un uomo delle istituzioni, il capo, non il capo, il direttore responsabile della rivista di magistratura democratica, lei ricorderà che magistratura democratica è una delle principali correnti della magistratura, scrive intorno a Renzi va messo un cordone sanitario. Ora, di fronte a questa frase di una corrente, io posso avere la forza e il coraggio di dire questo metodo non va bene?